Incidente tra due auto in via Correzzo a Stanghella. Una delle due vetture coinvolte è finita nel fossato a bordo strada contro un palo di cemento. Ferito uno dei due automobilisti. Sul posto i pompieri arrivati da est che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la persona ferita che è stata presa in cura dal personale sanitario del suo 118 e portata in ospedale a schiavonia. Intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.